Ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRMH24. Michele Emiliano sta partecipando a Milano alla festa delle regioni e le domande sull'autonomia differenziata promossa dal governo ha risposto che non c'è nulla di male se viene dato più potere a tutte le regioni. Sentiamo. Sono anche le regioni le protagoniste della riscossa italiana in un momento così difficile. Così il presidente della regione Puglia nonché vicepresidente della conferenza delle regioni Michele Emiliano a Milano per la prima edizione della festa delle regioni e delle province autonome. Alla presenza dei ministri Calderoli, Fitto e Tajani l'incontro si è aperto con una relazione di Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle regioni, e proseguirà con incontri volti a promuovere un percorso di crescita nazionale equilibrato. Lavoro, salute, welfare, ambiente e PNRR sono i temi individuati. Ma Emiliano, rispondendo ai giornalisti, ha anche sottolineato la necessità di dare alle regioni uguali poteri, allontanando così l'idea di autonomia differenziata promossa dal ministro Calderoli. Noi siamo dell'idea che non c'è nulla di male se si decide che tutte le regioni italiane debbano e possano avere maggiori poteri. Ne parleremo anche col presidente della Repubblica che è il garante dell'unità d'Italia e che quindi deve, assieme al Parlamento, che sono le due istituzioni a tutela principale della Costituzione, si deve decidere come questa grande storia deve andare avanti. e naturalmente le regioni hanno sempre lamentato di non avere avuto nel PNRR quelle capacità di coordinamento della spesa che avrebbero potuto consentire di mettere insieme i fondi regionali, i fondi nazionali, i fondi europei ordinari più il PNRR. Questa regia oggi viene effettuata direttamente dai ministeri, per il resto stanno facendo i ministeri. E i ministeri, con tutto l'affetto e il rispetto, non hanno mai funzionato particolarmente bene. Lo Stato centrale è sempre in grande affanno, dall'altra parte è inevitabile che sia così. Le regioni sono nate proprio per diminuire la burocrazia, non per aumentarla. La Puglia oggi presenta un record importante perché siamo la prima regione europea per la capacità di spesa dei fondi. Questo per noi è molto importante, non solo in se stesso, ma anche perché smentisce un luogo comune, cioè che il mezzogiorno non sia capace di spendere i fondi. Ancora politica, è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Matera. Tre punti all'ordine del giorno, anche l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023. Intervenuti sul tema, tra gli altri, i consiglieri Morelli e Casino. Il primo ha messo in evidenza le lacune della gestione amministrativa. Il provvedimento è stato approvato con 17 voti. Cronaca, la procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di concorso in omicidio colposo a carico di 27 indagati tra medici, ostetriche e personale sanitario per la morte di un neonato avvenuta nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il piccolo è morto il 25 novembre scorso. Dopo che la madre lo aveva dato alla luce, la donna prima di partorire era stata ricoverata per cinque giorni in ospedale. L'inchiesta coordinata dal sostituto Remo Epifani è stata avviata dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo attraverso un legale. Il magistrato inquirente ha disposto l'autopsia nominando un pool di consulenti. Cambiamo argomento, passiamo alla sanità. Un aggiornamento interaziendale per far confrontare le esperienze dei camici bianchi della ASL Bari. Ci ha pensato il dottor Michele Simone, capo di Dipartimento area chirurgica della ASL con il primo up to date nelle emergenze e urgenze in chirurgia generale. Ascoltiamo. Emergenze ed urgenze in chirurgia è il primo up to date che viene organizzato nel contesto dell'ASL Bari. Questa enorme struttura che assicura le cure di una popolazione che fa quasi 1.200.000 persone con una forza lavoro di quasi 9.000 persone. Poiché l'ASL è una struttura estremamente grande, questi professionisti paradossalmente si conoscono di nome più che di fatto, quindi con questo primo up to date li abbiamo concentrati insieme e alcuni si conoscevano, altri meno, però nella loro multidisciplinarità hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel contesto dell'emergenza e urgenza, tirando fuori dei grossi numeri ma salvando tantissime vite. L'idea è quella di mostrare la multidisciplinarità, di mostrare la capacità di ogni singola professione che va dal rianimatore all'anestesista, al chirurgo generale, al chirurgo toracico, al chirurgo vascolare, al radiologo interventista, al radiologo non interventista, quindi questo è estremamente importante e far capire che di fronte ad un evento tragico che può essere chiaramente il trauma, molte persone intervengono apportando professionalità elevatissime con un unico obiettivo salvare una vita umana. Per me è un onore e un orgoglio aver creato questo momento di incontro con questi professionisti e l'obiettivo è quello di migliorare sempre di più e assicurare all'utenza pugliese il massimo della sicurezza, soprattutto nel campo dell'emergenza e urgenza. Questo è uno dei primi argomenti che saranno affrontati nei contesti degli up to date che verranno effettuati regolarmente, un po' sulla linea che ho seguito nelle mie direzioni in altre istituzioni come per esempio quello dell'oncologico, non mancheranno le riprese sui workshop sulla patologia tumorale anche nel contesto di una forte volontà regionale che è quella della rete oncologica pugliese. Cambiamo argomento, oggi San Nicola come da tradizione la città si è svegliata presto per accogliere i pellegrini, i devoti del santo, dalle prime luci dell'alba la nostra Serena Manieri ha raccontato quello che è accaduto fuori dalla basilica, allora torniamo a collegarci con lei per capire cosa sta succedendo adesso. Serena. Sì e noi siamo qui di nuovo in diretta dal sagrato della basilica di San Nicola, dalle prime luci dell'alba di questa mattina abbiamo seguito quelle che sono le celebrazioni di dicembre legate al santo patrono di Bari, celebrazioni che sono partite prestissimo come da tradizione alle 4 l'apertura della basilica e poi alle 5 la prima messa, quella più attesa, quella più frequentata, tantissime le persone che si sono affolate qui e poi durante la nostra diretta poco fa abbiamo seguito la fiaccolata che è arrivata qui da tre punti diversi della città e noi abbiamo qui con noi proprio uno dei coordinatori della fiaccolata, Michele Fanelli presidente del circolo Acridalfino, a cui chiediamo com'è andata. Beh quest'anno è andata veramente benissimo, dopo due anni e un po' di pandemia quest'anno abbiamo ripreso la totale normalità e quest'anno veramente eravamo tantissimi, eravamo più di un migliaio che sono partiti dai tre punti e quest'anno l'abbiamo dedicata alla pace e sono contento perché nelle vie della città all'alba, la diana di questo giorno memorabile per questa città un unico grido era quello della pace e noi vogliamo che da Bari, ecco da questa giornata, dal santo della pace, dal santo dell'ecumenismo parta questo grande grido di pace affinché questa maledetta guerra e tutte le guerre finiscano e prevalga la ragione e il dialogo. Quindi buon San Nicolo a tutti. Ecco su questo grido di pace noi ci uniamo metaforicamente, virtualmente ma anche con la nostra presenza qui a quello che è stato l'invito che è giunto anche dal priore della basilica quest'oggi ma anche dal sindaco De Caro a ricordare questo momento come un momento di grande unione per fare comunità. Con questo grido di pace diamo la linea allo studio. Grazie Serena e vi ricordo che anche oggi a partire dalle 19.30 andrà in onda sulle strade di San Nicola per raccontarvi i festeggiamenti in onore del santo. Passiamo allo sport, è stata presentata a Bari la prima edizione dell'Olimpiade Metropolitana di Bari, sentiamo. Oltre 200 gare, 1000 atleti, 68 associazioni sportive dilettantistiche, 15 discipline e 20 comuni coinvolti. Sono solo alcuni dei numeri della prima edizione dell'Olimpiade Metropolitana presentata a Bari, alla presenza anche dei sindaci dei comuni che hanno aderito all'iniziativa. Abbiamo le Olimpiadi Metropolitane organizzate tra tutti i comuni dell'area metropolitana, sarà un'emozione, un modo per promuovere lo sport, per fare comunità, per promuovere la crescita non solo sociale, non solo sportiva ma anche sociale, dei nostri ragazzi. Un modo per mettere in competizione i comuni, le associazioni, le scuole e le tante squadre delle nostre comunità in una settimana di sport, di benessere e di socializzazione, proprio nel periodo che stiamo per affrontare, che è quello delle festività natalizie. Dopo due anni di stop, i ragazzi e non solo sono tutti sovrappeso, quindi hanno necessità di fare movimento, hanno necessità di fare attività, di socializzare soprattutto, ma di essere liberi all'aria aperta, considerato che abbiamo ancora un ritorno di questo cattivo virus che non ci vuole abbandonare. L'Olimpiade Metropolitana coinvolgerà dal 10 al 17 dicembre tutti i comuni dell'area metropolitana barese che hanno messo a disposizione le proprie strutture sportive. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.